Ciao a tutti! Oggi prepareremo il liquore alla cannella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono cannella, alcol, zucchero e acqua. Siamo in via la ricetta. Mettere nel boccale lo zucchero, le secche della cannella e polverizziamo per 20 secondi, a velocità 10. Porniamo sul fondo un po' lo zucchero. Aggiungiamo l'acqua. E facciamo cucinare per 8 minuti, a 60 gradi. Velocità 1. Adesso uniamo l'alcol. E mescoliamo per un minuto, a velocità 3. Adesso lasciamo raffreddare il composto nel boccale per almeno un'ora. Dove è fatto raffreddare il liquore, andiamola a filtrare. Un minuto di un mestolo. Utilizziamo un colino e un fazzoletto di stoffa. La stoffa ci serve ad evitare che i residui della cannella possano attraversare il colino. Con un cucchiaio andiamo a muovere il nostro liquore per facilitare il passaggio attraverso il fazzoletto. E continuiamo così per tutto il resto del nostro liquore. Dopo averlo filtrato andiamo a riempire una bottiglia. L'incuore alla cannella. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Autore dei sovrapposti